Ora sei più tranquilla. Io non sono nervosa. Siete voi che siete nervosi perché non vi piace la mia decisione. È perché non è una buona decisione. Che cos'è questo rumore? Popcorn. Vedi quanto sei nervoso? A quanto pare mia nipote ha deciso di rovinarsi la vita. Sì, riconosco che la cosa mi rende un po' nervoso. So quello che faccio. No, tu non sai quello che fai. È un mio problema. No, non è un tuo problema. Questo è un problema che ci riguarda tutti. Oppure lo crescerai da sola? Beh, sì. Ah, sì? E che lavoro farai per dargli da mangiare, comprargli i pannolini o per portarlo al nido? Andrai a ballare nella metro? O andrai a pulire le scale come Gladys? Per quanti popcorn tu possa mangiare, questo non è un film di Hollywood. Questa è la vita reale. E le tue decisioni di oggi avranno delle conseguenze un domani. I miei genitori biologici mi hanno abbandonata. E i miei genitori adottivi hanno le scatole piene di me. A lui non succederà. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.